Rieccoci amici con la nostra serie inglese, è la terza puntata che registro di fila, sto facendo una mega campagna La Finlandia è entrata negli alleati, easy peasy, non ha fatto la guerra contro i sovietici, hanno accettato le loro richieste anche se potevamo andare ad aiutarli, io sarei stato contentissimo La Germania ha dichiarato guerra alla Polonia, non ci è arrivata la richiesta di aiuto, forse perché non li avevo garantiti La Romania è entrata in guerra con la Germania, anche questi non vogliono accettare l'entrata, cioè non vogliono entrare negli alleati e niente, adesso vediamo come va sta cosa, perché devo aspettare che loro finiscono la guerra con la Romania probabilmente dopo attaccheranno i Paesi Bassi e il Belgio e poi vediamo, vediamo, vediamo Intanto sto allenando delle altre truppe, non qua, qua, sto allenando degli altri Space Marines, no, Space Cavalry e vediamo come va Qualcuno vuole entrare in fazione, ho un sacco di persone, Invite to Faction Invite to Faction Loro mi vogliono dare le truppe ma io non le voglio adesso Qualcuno verrà annesso tra un pochino Military Training Act, fatto Kickstart War Industry The Home Army No, chi se ne frega Facciamo un embargo alla Germania Abbiamo fabbriche disponibili Le mettiamo a produrre Armored Car Che poi le metteremo da qualche parte nelle nostre divisioni Qua come sono messi Ok Proviamo Proviamo a difendere la Francia Vediamo, vediamo come va Oppure no No, sì, proviamo a difendere Dispersed Industry Quattro No, sei mi sembra A quanto siamo? Cosa stiamo ricercando? Dispersed Industry? No, quattro, sì Ok, mi sembrava un po' troppo lontano il sei Assegniamo un generale Uno qualsiasi Ok E allenatevi E andate Sul confine del Belgio Kingdom of Siem is justifying against French Indochina Andremo in guerra contro il Siam Sarebbe divertente come cosa Loro sono alleati con qualcuno No, non ancora Potenziamo ancora l'artiglieria Loro si stanno allenando Uh, German Reich declared war on the Kingdom of Belgium Allora Voi vi togliete subito Intanto abbiamo ricercato il Mechanized Facciamo Rear area dumps Invitati Voi andate subito sul confine con La Germania Fermi Modifichiamo il confine Ok Fermi tutti Vorrei ricordarvi di lasciare un mi piace Di commentare con qualcosa di simpatico O se volete farmi fare qualcosa E se non l'avete ancora fatto Di iscrivervi al canale Buona visione E siamo in guerra Chi altro vuole entrare? Messico? Certo Messico Noi siamo partiti? No, perché non siamo partiti? Perché non stiamo partendo? Mi sa che ci vuole un po' più di flotta Facciamo che tu Te ne vai di qua E che entrambi Venite di qua Ok Voi intanto Tu Fight Patrol Embargo Germany fatto Kickstart War industry Sì Facciamo quello Voi perché non partite? Ma come? Ma perché non sono in guerra? Ma certo Ma entriamo in guerra Mi sembrava strano Non capivo perché non stessimo Non stessimo attaccando Ok Voi circondate Cagliari Magari un Space Marines Cironda proprio completamente Ok Miglioriamo No Non miglioriamo niente da lì Facciamo il camouflage Qua stiamo fermi Ok Allora l'isola è nostra No 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 Tu non hai capito niente No 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 Tu non hai capito niente Che stronzi Allora abbiamo difeso il Belgio Il Belgio Regge Buono Qua in Africa Come siamo messi Ok Stiamo avanzando Buono I francesi hanno perso però E ci stiamo ritirando pian piano anche noi E non è una gran cosa Chiamiamo l'Egitto Ok Carri migliorati Potenziamo l'armatura Chi vuole entrare? L'Albania vuole entrare Ah perché è ancora in guerra Certo Invite to Faction Invite to Faction Ok La Francia sta 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 reggendo nel basso A scontro Chi è stronzi Ma perché l'hanno preso loro Che noi abbiamo la capitale Della Della Sardegna Avevamo preso Cagliari Ed è stato assegnato alla Francia Ma in che lingua? Ma in che mondo? Ma cosa vuol dire? Se vi fate prendere la Sardegna Quanto mincazzo Andiamo a sbarcare A Palermo E qua Andate Veloci Le flotte Allora voi E andate qua Ok Aerei Fermi E vi spostiamo tutti qua Voi vi unificate Ok Siete al massimo E vi sposto qua Ok A posto Sistemiamo un attimo gli aerei Voi potete stare anche qua Facciamo così 200 Vi sposto qua Intanto vi tolgo tutte le missioni Ok così poi le sistemiamo meglio 200 Ve ne andate qua Perfetto 600 Ve ne andate qua E voi fate Interception 600 Vi mando qua Fate closer support Fighter Ci serve un altro aeroporto vicino Mandiamo 200 qua Per A superiority Altri fighter qua Fate A superiority Dive bombers Un altro aeroporto Nella zona No ma possiamo tenere anche qua Ok Voi fate interception Anche voi fate interception Voi fate closer support E vediamo come va la situa Ok Contestata Qua stanno cercando di Attaccarci Ok dobbiamo reggere Dobbiamo reggere assolutamente Abbiamo un altro operativo Che possiamo reclutare Qualcun altro con counter intelligence Sì Perfetto Ok stiamo avanzando Dobbiamo prendergli i porti Dobbiamo prendergli Uno Due E dobbiamo difendere questo Assolutamente Ok Nel sud della Francia I francesi sono avanzati Però stanno Stanno un po' perdendo Il belgio regge ancora Ottimo Da un punto di vista aereo Ok Qua abbiamo la superiorità Buono Buono Buonissimo Ok Qua nel Mediterraneo Stiamo avanzando Stiamo procedendo No Manca ancora un bel po' La morte bianca La morte bianca Che attacca i tedeschi Anche in Africa Reggiamo Parmigiano Reggiamo Abbiamo decifrato Gli ungheresi Anche se non sono ancora In guerra con noi Qua quanto manca Siamo 30 su 47 Qua diamogli un ordine di attacco Anche se non voglio attaccare Per adesso Ma gli do Gli do soltanto l'ordine Qua manca davvero poco Poi riusciamo ad andare dritti Senza problemi Ma in che senso La Grecia dichiara guerra All'Albania Ma perché Ma secondo quale movente Devi attaccare l'Albania Che adesso l'Italia Ti attacca E ti distrugge Tra poco Ma sono scemi No, non voglio la tua truppa La tua trippa Ok, Nord Africa Stiamo reggendo Dovrei sbarcargli anche Posso passare il livello di qualcuno Nessuno di troppo importante Dovrei sbarcargli magari anche a Tripoli A Benghazi A Tobruk Così No, no Ma c'hanno un sacco di truppe a difendere La Libia Tanto noi stiamo andando Palermo È quasi andato Pixar The War Industry Facciamo dei home armi Palermo È quasi andato Aiutiamo da qua Circondiamo proprio Palermo Del tutto E uno lo vendiamo a Messina Palermo preso Ci siamo presi Messina Ottimo Voi andate qua Tu provi a andare a Reggio Andiamo a Catania E voi andate di qua Ok, ottimo E proviamo a dannare dal basso Ci servirebbero degli aerei Ci servirebbero degli aerei Che adesso ho sposto da qua Allora ci servono Fighter E Dive Bomber Questi Fighter La metà gli facciamo fare Interception Voi state fermi E venute qua Quasi date anche una mano Eh, però è difficile Sbarcare lì Qua abbiamo distrutto Un sacco di Destroyer Italiani Anche un Light Cruiser Ok, qua non mi stanno più attaccando Eh, qua Qua siamo messi malino Abbiamo un porto E altre due Di due province Ah, però possiamo tagliarli E prendergli il porto Facciamolo Facciamole Andiamo per di qua Eh, no Non so se Non so se riusciamo a farlo Qua abbiamo i punti Facciamo Grande Assault E Ok E' a posto Abbiamo Le fabbriche militari Ci manca qualcosa Eh, ci manca Il carburante Ci manca Eh, sì Proprio così Facciamo Produciamo un po' di carburante Allora Per sì No, sintetica fa Sì Non 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 abbiamo la synthetic refinery Male Dobbiamo importarla Allora Cioè, dobbiamo importare l'olio Allora Eh, quello che ci vuole Meno convogli Unione sovietica Prendiamo un po' da loro Poi in basso Facciamo che voi vi fermate A voi Cosa posso assegnare? Cavalry expert O combat arms? Combat arms Eeeh Infantry expert No Questo Ambusher A te Cosa posso dare? Logistics wizard Certo Poi Combat arms Ovviamente E basta Chi vuole entrare con noi La Svezia Invite to faction Voi Voi siete con noi? Sì Facciamo che Joiniamo le war Ok Sono aiutati anche loro contro Contro questi qua Aiutati dei tedeschi Buono Eh, continua a mancarci E mancarci l'olio Voi Fermi Amphibius Naval liaison Potenziamo ancora L'antiaerea E diamo delle altre fabbriche Ai nostri aerei Ai nostri fighter Ok Eh, qua me ne servono altri Eh, qua me ne servono altri Qua me ne servono altri Che toglierò da qua Via Facciamo proprio così Qua cos'ho Dai bomber Fighter Vi spostate qua Ed è finito il tempo Per questa puntata Allora Ho Troppi fighter Qua in zona Facciamo che Cento li sposto di qua Ok Allora Fermi Voi fate tutti Air superiority La metà fa questo Super superiority No ma in che senso Scusami Voi tutti fate Voi tutti fate Air superiority Ok La metà di voi Fa interception Ok Ora ci siamo Ok Gli islandesi Sono con noi Buono Enemy air superiority Perché Enemy air superiority Quanta ne hanno Dispersi In lo stifatto Facciamo anche Construction Eh sì Loro hanno Loro hanno La superiorità Ma di quanto Enemy fighters Eh no Facciamo tutto Interception Eh loro Loro ne hanno Di più Noi abbiamo Anche i radar Però Eh però Non coprono Troppo Cioè non coprono Tutto Qua Formation flying Ok State fermi Allora io direi Perché per questa puntata È tutto Noi ci vediamo Alla prossima E ciao a tutti Quack Quack